Per fare le equivalenze tra le varie unità di misura della pressione, partiamo dalle equivalenze fondamentali. Cominciamo da una atmosfera, che equivale a 760 mm di mercurio, o TOR. Infatti ricordiamo che la pressione atmosferica, trasmettendosi all'interno del mercurio, è in grado di tenere sollevata la colonnina di mercurio del barometro di Torricelli fino a un'altezza di 760 mm. Quindi la pressione atmosferica corrisponde alla pressione in grado di esercitare alla sua base una colonnina di mercurio alta 760 mm. Questo era il significato dell'equivalenza a un'atmosfera uguale a 760 TOR. Poi sappiamo anche che un'atmosfera sono 101.300 Pa e siccome possiamo scrivere questo numero come 1,013 per 10 alla quinta Pa, sappiamo che per definizione è un bar, allora viene che un'atmosfera è 1,013 bar, scritto qua. Queste tre equivalenze, quindi un'atmosfera espressa in TOR, PASCAL e BAR, le ho riscritte qua. Un'atmosfera sono 760 TOR, sono 101.300 Pa, sono 1,013 bar. Adesso vediamo un TOR, cioè un millimetro di mercurio. Quanti Pascal sono? Basta applicare la legge di Stevin prendendo una colonnina di mercurio alta 1 mm. Infatti l'altezza è 10 alla meno 3 metri. E metterci la densità del mercurio. Alla fine vengono 133 Pa, cioè vuol dire che una colonnina di mercurio alta 1 mm, alla base esercita una pressione di circa 133 Pa. Rovesciando questa equivalenza possiamo dire che un Pa è circa 1,0133 di TOR. Attenzione che questi sono valori approssimativi. Poi per definizione un BAR sono 10 alla quinta Pascal, invertendo questa equivalenza, un Pa è un cento millesimo di BAR, 10 alla meno 5. Poi possiamo rovesciare questa equivalenza, un'atmosfera sono 101.300 Pa e quindi troviamo che un Pa è un'atmosfera diviso 101.300. Quindi queste due equivalenze che sono incorniciate qua rappresentano il passaggio dal Pascal al BAR e dal Pascal all'atmosfera. Poi rovesciando quest'altra equivalenza, che è un'atmosfera che corrisponde a 1,013 BAR, abbiamo che un BAR è un'atmosfera diviso 1,013. Quindi queste due equivalenze qua rappresentano il passaggio dai BAR ai Pascal e dai BAR alle atmosfere. Poi rovesciamo quest'equivalenza che un'atmosfera sono 760 TOR e troviamo che un TOR, o millimetro di mercurio, è un 760 di atmosfera. Questa equivalenza fa passare dai TOR alle atmosfere. Ora possiamo anche dimostrare che un millibar è uguale a un etto Pascal. Infatti il millibar vuol dire 10 alla meno 3, milli, 10 alla meno 3, BAR. Ma BAR è 10 alla quinta Pascal, quindi 10 alla meno 3 e 10 alla quinta fa 10 alla 2. 10 alla seconda vuol dire etto, etto Pascal, 100 Pascal.